ciao come va sono molto felice di ritrovarti qui sull'italiano per tutti step by step finalmente nell'ultima lezione abbiamo abordato il tema principe di ogni lingua cioè lo studio della coniugazione abbiamo ovviamente iniziato con due verbi importantissimi cioè il verbo essere e il verbo avere e prima di andare avanti vorrei essere sicuro che tu padroneggi la loro coniugazione sette giorni fa ti ho assegnato qualche esercizio per mettere in pratica le nozioni apprese dovevi scegliere uno tra il verbo essere e il verbo avere per dare ad ognuna delle frasi un senso compiuto che ne dici di correggerli insieme nel primo caso la frase corretta è tu sei nicola scegliamo il verbo essere in quanto definiamo un attributo quindi una condizione una caratteristica fondamentale nella seconda frase la scelta ricade invece sul verbo avere quanti anni avete parliamo in termini generali del possesso quanti anni avete o quanti anni possedete oggi è lunedì determiniamo quindi definiamo lo stato è una caratteristica del nostro soggetto oggi è lunedì così come tu sei nicola oggi è lunedì io ho molti amici sono miei noi siamo giovani verbo essere ancora predefinire una nostra qualità una caratteristica lei è italiana ancora definiamo una qualità una domanda quindi leggiamo con l'intonazione che sale voi avete fame la fame è qualcosa che voi possedete anche se nessuno ti augura di averla e adesso entriamo subito nel vivo della lezione e riprendiamo esattamente dal punto in cui ci siamo fermati una settimana fa abbiamo visto insieme la coniugazione del verbo essere e del verbo avere usiamo adesso questi due verbi per costruire delle frasi di senso compiuto la settimana scorsa ti ho detto che con un verbo ed un soggetto possiamo già costruire una frase semplice iniziamo con il verbo essere io sono questa in teoria è già una frase di senso compiuto ma in realtà è un po povera è un po spoglia possiamo aggiungere qualcosa per arricchirla per abbellirla posso dire sono Roberto utilizzando un nome proprio posso dire sono italiano utilizzando un aggettivo e posso anche dire sono professore di italiano ho scritto il soggetto tra parentesi perché spesso rappresenta una ripetizione pronunciarlo infatti il soggetto è contenuto all'interno della coniugazione verbale ogni forma del verbo si adatta a ciascuna delle persone singolari o plurali quindi all'interno del verbo è evidente e contenuto anche il soggetto e non c'è praticamente nessuna possibilità di equivoco o di incomprensioni avverto però una certa perplessità da parte tua e in effetti non hai tutti i torti stai pensando prima persona singolare e la terza persona plurale del verbo essere sono identiche se non pronuncio il soggetto come fa il mio interlocutore a sapere se parlo dell'uno o dell'altro soggetto per fortuna la grammatica ci viene in aiuto infatti quando usiamo il verbo essere i nomi comuni e gli aggettivi che lo accompagnano si devono accordare in genere e numero con il soggetto se hai seguito le mie precedenti lezioni sai perfettamente come fare è necessario lavorare sulla terminazione del nome quindi sull'ultima lettera che generalmente è una vocale quindi dirò io sono italiano se parlo di un soggetto maschile quindi userò la terminazione o che caratterizza il genere maschile singolare e invece dirò io sono italiana se parlo di un soggetto femminile singolare posso tranquillamente omettere il soggetto e dire sono italiano o sono italiana Alla seconda persona singolare dirò tu sei italiano maschile oppure tu sei italiana quando parlo di un soggetto femminile posso tranquillamente omettere il soggetto e dire sei italiano o sei italiana Alla terza persona abbiamo tre diversi soggetti un soggetto maschile singolare in questo caso diremo lui è italiano o la o finale o semplicemente è italiano se parliamo di un soggetto femminile singolare di terza persona singolare diremo lei o semplicemente è italiana quando invece ci rivolgiamo a qualcuno dandogli del lei quindi usando la forma di cortesia diremo lei o semplicemente è italiano o è italiana al plurale diremo invece noi siamo italiani con la terminazione i se parlo di un soggetto maschile plurale evidentemente o noi siamo italiane con la e che caratterizza il genere femminile plurale se parlo di un soggetto di questo genere e numero la seconda persona plurale dirò siete italiani o siete italiane omettendo il soggetto che è contenuto all'interno del verbo e alla terza persona plurale dirò loro sono italiani o loro sono italiane e se decido di omettere il soggetto dirò semplicemente sono italiani sono italiane hai visto? nella pratica è impossibile confondere un sono di terza persona plurale con un sono di prima persona singolare perché l'aggettivo o il nome come vedremo tra sette giorni che lo accompagna avrà una terminazione differente in ciascuno dei due casi ma non vorrei sovraccaricarti di informazioni senza che tu abbia il tempo di digerirle di assimilarle quindi per oggi ci fermiamo qui continueremo a costruire frasi con il verbo essere e il verbo avere tra sette giorni ti auguro una bellissima giornata a costruire frasi